In collaborazione con Ponte di Legno Tonale, Paganella Schi, Alpe Cimbra Folgaria Lavarone, Vicina da non crederci, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, Schirama Dolomiti Adamello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al secondo appuntamento settimanale con S4. S4 è il talk show di sportador.tv, la multipiattaforma tv e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. Ogni settimana vengono a trovarci nei nostri studi di Milano quattro amici che parlare di sport e turismo. Saremo in onda da gennaio sino a giugno, 20 le puntate previste per questa ottava edizione, prima edizione lontano 2012. Questa settimana ringrazio chi ci è venuto a trovare, Michael Reck, il presidente dell'Alpe Cimbra, questo bellissimo territorio che comprende i comuni di Folgaria, Luserna e Lavarone. Grazie Michael di essere venuto. Grazie a te e grazie ai telespettatori. Ruggero Ghezzi, il direttore della schiaria Paganella Schi, questo panettone al centro del Trentino, dove c'è un panorama incredibile a 360 gradi su tutto il territorio italiano, dalla Pena Padana a Lago di Gara fino alle Alpi austriiche. Grazie Ruggero di essere venuto. Grazie a voi, buongiorno. Jennifer Perenzoni dell'azienda per il turismo Trento e Monte Bondone Valle dei Laghi, il capoluogo del Trentino, della provincia di Trento e la montagna dei Trentini che è il Bondone e poi la Valle dei Laghi che arriva fino al Lago di Gara. Grazie Jennifer di essere venuta qui da noi. e poi un altro amico delle nostre trasmissioni, Flavio Delvai, il responsabile del consorzio della schiaria della Val di Fiemme che comprende ben tre schiari, il Cermis, Pampiago, Schissente e Latema e l'Alpelusia a Bellamonte. Grazie Flavio di essere venuto anche tu questa settimana. Iniziamo parlando con Michael Reck, la stagione Lampecimbra, avete fatto il botto quest'anno con l'accordo con gli nazionali americani, svizzere e francesi. Ligeti, la Schiffring, sono venuti a trovarvi, giusto? Assolutamente sì. Una stagione molto positiva. A cominciare da dicembre, baciati dal bel tempo. Tanta neve, certamente neve tecnica, ma preparazione delle piste eccellente. Una cosa che ci contraddistingue ormai da tanti anni. La gente ci conosce. A Folgaria e Lavarone abbiamo condizioni ottime di preparazione delle piste con ogni condizione meteo ed è per questo che negli anni abbiamo sviluppato una capacità e una professionalità nella preparazione di piste e di competizione ad altissimo livello che grandi squadre come gli Stati Uniti ma tantissime altre squadre europee ci scelgono per i propri allenamenti prima di gare molto importanti. La particolarità dell'accordo con la nazionale americana prevede un accordo quadriennale per portare questa nazionale alle Olimpiadi. Quindi un accordo importante che vede l'Alpecimbra a fianco di una delle più importanti squadre a livello mondiale e un'occasione per noi di farci conoscere non solo in Europa ma anche nel continente americano. E soprattutto una stella come la Schiffring che vediamo quadrata in questo momento che domina in slalom e in gigante, ha vinto anche il supergigante a Cortina. Dopo lo scorso anno che Lindsay Vaughn ci scelse per gli allenamenti prima di Garmisch quest'anno è arrivata Micaela Schiffring una grande occasione per noi sia in termini di comunicazione ma anche proprio per accrescere la nostra professionalità nella gestione di un allenamento che reputo veramente diverso da tutti gli altri che avevo visto nella mia esperienza poiché questo atleta non è un caso che vinca con regolarità e precisione nel senso che il suo allenamento sono stati tre giorni di incredibile concentrazione e ricerca della perfezione. Il suo staff e lei stessa molto concentrata ad ogni proprio circuito tra i pali veramente una qualità anomala e devo dire singolare. Non ho mai visto fare da nessun altro. Una chicca per il vostro territorio. Assolutamente sì. Una chicca, un plus per il vostro territorio. Ma è stato certificato dal pubblico, centinaia di persone presenti per vedere la campionessa tantissimi bambini, tu sai che noi siamo forse uno dei principali comprensori italiani per la famiglia, per i bambini, per chi inizia a sciare, tantissimi sci club da tutto il nord Italia scelgono Folgaria Lavarone per i propri allenamenti ed avere questi campioni quasi extraterrestri nel senso che quando si parla della chiffon si parla del campione per eccellenza nel settore femminile. Averli lì è una grande occasione anche proprio di visibilità. Anche voi, Ruggero, non scherzate, da voi vanno i norvegesi, giusto? Quindi Svindal, Kristoffersen come sede e la stagione sta andando bene anche da voi. Direi di sì. Abbiamo iniziato, come diceva Michael, con un po' di preoccupazione perché la neve a novembre non c'era ma poi è arrivata, è arrivata anche la neve programmata che ha caratterizzato tutte le piste e la grande competenza dei tecnici e degli addetti alla gestione delle piste ha permesso di avere, soprattutto durante le festività natalizie e capodanno, delle piste perfette. Oggi i gatti hanno, non solo in Paganella ma in tante altre località, hanno della tecnologia a bordo che permette di spalmare la neve in maniera omogenea su tutte le piste. Quindi le piste sono veramente dei biliardi, sono perfette, ci scia molto bene. Abbiamo grandi complimenti e apprezzamenti per come sono tenute le piste. Abbiamo iniziato con Aero Chocolate Christmas, questo grande evento di inizio stagione legato al Festival del Cioccolato che ha avuto grande successo anche sulle piste. Siamo passati poi con la Coppa Europa per arrivare vicino alle festività natalizie. Abbiamo avuto la Coppa Europa femminile, quattro gare, due femminili, quindi due giganti e poi anche due gare maschili, altri due giganti che hanno veramente caratterizzato un periodo di prestagione dell'Altopiano della Paganella e della Schiaria in particolare. Abbiamo avuto anche una bella prestazione dei norvegesi, soprattutto nel maschile, cinque posti, primi cinque, ma anche degli italiani nella prima gara con due piazzamenti che poi si sono ripercorsi anche in maniera positiva in una tappa della Coppa del Mondo. Quindi una buona stagione, parleremo poi del grande finale di stagione, parleremo anche di sci alpinismo, trofeo, spellini che fate a febbraio nel vostro territorio. Allora, chiudiamo questa presentazione, Trento-Monte Bondone. Io dico sempre che voi avete tutto in pochi chilometri, Jennifer, no? Quindi la bellezza, la storia, la cultura di Trento, la montagna e i laghi. Beh, la forza del nostro ambito sicuramente è anche questo, quindi in pochissimi chilometri si può scoprire quella che è la storia, la cultura, insomma, del capoluogo di Trento e poi spostarsi in una mezz'oretta circa di macchina, oppure si può anche prendere lo ski bus e arrivare sulle piste da sci del Monte Bondone. Quest'anno la stagione invernale sta andando comunque molto bene. Come dicevano i miei colleghi, sicuramente la neve quest'anno non è così tanta, quella naturale, insomma, come è stato l'anno scorso, però l'innevamento programmato che per quanto riguarda il Monte Bondone è stato anche potenziato quest'anno, copre tutte le piste, quindi il 100% delle piste e questo garantisce comunque una sciabilità ottimale. Anche noi abbiamo avuto dei riscontri molto positivi per quanto riguarda la sciabilità, quindi tanti complimenti, nonostante sia appunto neve programmata. E niente, è una... Comunque una località che piace molto anche alle famiglie, ecco, questo per tantissimi servizi insomma che offrono le strutture ricettive e in primis, insomma, offerte particolari, pacchetti, ma anche ski pass molto convenienti per chi vuole appunto sciare con tutta la famiglia e non può mancare anche quello che è il benessere, quindi i centri benessere degli hotel sono tutti rinnovati. E poi un panorama come questo che abbiamo visto. Beh, le Dolomiti di Brenta sono davvero bellissime, insomma, si può sciare con vista. Già a vedere questo spettacolo vale il biglietto, lo ski pass. Allora, da Trento si sale, è gna ora, si esce, l'autostale del Brennero, passa a Lugano e si arriva nella Val di Fiemme. Questa valle di Biblio, pochi chilometri, siamo in un altro paradiso turistico. Sì, direi che noi rappresentiamo poi l'altra grossa organizzazione sciistica, diciamo, rispetto a Schirama dei colleghi. Noi facciamo parte di Dolomiti Supeschi, che è la più grande organizzazione, diciamo, mondiale, a livello mondiale di sci. Sono 500 impianti per oltre 1000 km di piste. Noi di questa organizzazione siamo la quinta forza, siamo una forza importante. Siamo in Val di Fiemme e direi che il discorso che ci accomuna un po' oggi è quello della cura delle piste. Direi che i telespettatori ci riconoscono, noi siamo in Trentino e quindi ci riconoscono queste qualità. Qualità che però ai più sono sconosciute, perché noi abbiamo visto piste, abbiamo visto campioni che scendono sulle nostre piste, campioni che fanno le gare, però quando tutto questo cessa, diciamo, verso le 5, 5 e mezza, 6 di sera, entrano in campo altri professionisti della neve. Eccoli qua che li vediamo. C'è molta automatizzazione, come diceva Ruggero, i gatti ormai sono pieni di tecnologia come le nostre macchine, però credo che l'uomo e la sensibilità e la professionalità dell'uomo abbiano ancora un'importanza molto grande nel nostro mondo. E quindi ci sono le squadre dell'innevamento, diciamo, dei nostri cannoni, di cosiddetti cannoni, che naturalmente producono ancora oggi e credo per tutto gennaio produrranno neve, che poi ci servirà per arrivare fino al 22 di aprile, perché la stagione, diciamo, è iniziata da noi i primi dicembre, ma deve arrivare fino al 20 di aprile, fino dopo Pasqua, insomma. Quindi adesso si fa tesoro di questa neve e per inciso e anche per semplificazione di informazione, direi che noi siamo anche custodi della nostra acqua, perché trasformiamo l'acqua in neve programmata sulle nostre piste, però l'acqua, come l'energia elettrica, non è che si può immagazzinare in un fazzoletto, quindi poi in primavera, con lo scioglimento, diciamo, della neve sulle nostre montagne, ecco, quest'acqua ritorna in valle, ritorna nei fiumi, quindi ritorna ai legittimi proprietari. Ecco, quindi la squadra dell'energia elettrica e poi la squadra dei nostri vettisti, che oggi come oggi, diciamo, dalle 18 di sera fino alle 7, quasi alle 7 di mattina, fa sì che i nostri clienti cronino la mattina delle piste estremamente sciabili ed eccezionali. La base di Fiemme, ricordiamo, famosa per lo sport sci di fondo, famosa per i tanti eventi legati all'outdoor, ospiterà, speriamo, nel 2026 anche le gare di Scinordico, le Olimpiadi. Infatti, dicevo, noi non vorremmo accompagnare una squadra, ma vorremmo essere protagonisti del 26, non lo so, incrociamo le dita. Voi come avete ben tre schiare, no, nella Val di Fiemme? Esattamente, diciamo che noi abbiamo 51 impianti per oltre 120 km di piste, divise in tre grandi schiare, che fanno riferimento poi ai centri più importanti, ai paesi più importanti. Cavalese con Cermis. Cavalese, l'Alpe Cermis, Predazzo e, diciamo, Pampiago con lo Schisa Interlate, Marchio è il nostro carosello più importante. E poi Alpelusia, che, diciamo, da Moeno, da Bellamonte, è quest'altra area importante, insomma. Allora, abbiamo parlato di quanto è importante preparare le piste. Non c'è tanta neve, in Austria, in Germania, 4 metri di neve, ma tutto bloccato, perché condizioni meteo difficili. In Italia, poca neve, curata, trattata bene, piste perfette, giornate di sole, è una gastronomia offerta che, rispetto agli altri paesi europei, lasciamo stare, piste curate. Io dico sempre il buon Schumacher, quello che gli è successo cinque anni fa, nel 2013, era in Francia, in Italia non sarebbe successo. Quindi quanto è importante curare le piste? Ma è assolutamente importante, infatti gli standard di sicurezza che si trovano in Trentino sono standard di sicurezza molto importanti, all'avanguardia. Posso dire, parlando di Alpecimbra, che è proprio uno dei nostri punti di forza quando ci rivolgiamo al mercato delle famiglie. Il nostro comprensorio di 100 chilometri di piste è assolutamente sicuro, ma soprattutto anche baciato dal sole e ha un'altitudine media compresa tra i 1200 metri e i 2000 metri di quota. Questo significa che per i bambini, per gli sciatori, non si hanno mai temperature troppo gelide oppure insidie e problemi di sicurezza decretati, causati da montagne eccessivamente rocciose o carenza di protezione. Mi piacerebbe ricordare il ragionamento fatto sulla neve tecnica che ci consente di portare avanti la nostra stagione da dicembre fino ad aprile, poiché anche l'energia elettrica in Trentino viene prodotta con la tecnologia idroelettrica, pertanto è un'energia pulita e l'acqua che viene turbinata, che viene sparata è un'acqua che non riceve nessun tipo di aggiunta o di additivo. Ci sono additivi perché qualche ambientalista... Assolutamente no e va ricordato, qualcuno addirittura dice che questa neve additivata modifica l'equilibrio biologico dei pascoli, non è assolutamente vero, anzi è un'acqua normalissima e che in primavera rilascia gradualmente e va a rialimentare le nostre sorgenti. Quindi nessuno si faccia in qualche modo scrupolo a venire a sciare, le nostre piste sono perfette e assolutamente noi lavoriamo nella tutela del nostro ambiente che è la nostra risorsa primaria. Un invito importante è quello di Michael Reck, ricordiamo l'Alpecimbra, si esce a Rovereto, si sale in 10 km, Folgaria poi, Lavarone e Lusena, vicino a Noncredi perché in due ore praticamente... Questo è il nostro punto di forza, il collegamento con tutto il nord Italia ed anche voglio ricordare il treno, la ferrovia del Brennero che solca il nostro Trentino offre il servizio di treni ad alta velocità sia con Trenitalia che con Italo, partenza dalle più grandi città dal sud al nord, quindi da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, quindi molto importante anche il collegamento alternativo non solo con l'autostrada ma anche col treno o con gli aeroporti. Da l'Alpecimbra alla Paganella, anche voi come collegamenti siete Trento Nord, mezzo Lombardo in un quarto d'ora, in questo panettone dove c'è un panorama alla Val d'Adige, Lago di Gare, all'Ometti di Brenta. E' detto bene, siamo sull'asta del Brennero, vicinissimo all'autostrada San Michele all'Adige oppure da Trento Nord, quindi facilmente raggiungibile a venire a Milano, ho impiegato due ore e un quarto, quindi insomma anche i grandi centri del nord Italia siamo molto vicini. Mi riaggancio alla questione legata alla neve, quest'anno abbiamo avuto una rappresentanza di un consorzio turistico Calabro sulle nostre piste e la tradizione sui monti della Sila è quella di quando nevica, di utilizzare la neve naturale per fare le granite, famose granite, con gli agrumi della Calabria e anche con degli sciroppi che escono dagli agrumi della Calabria. E quest'anno, qualche settimana fa, abbiamo utilizzato la neve sia naturale ma anche artificiale, programmata, riuscendo a realizzare questi sciroppi e devo dire che siamo tutti sopravvissuti, quindi in qualche modo confermiamo quello che diceva Malcolm prima, cioè la neve artificiale, programmata, è fatta da acqua e aria, punto, quindi è veramente naturale e poi rientra nel ciclo dell'acqua. Quindi, allora, quest'anno tanta granita ma anche tanta cioccolata, no? Abbiamo avuto all'inizio stagione Eurocioccolate Christmas, quindi sia nei paesi di Fai, di Andalo e di Molveno abbiamo avuto questo grande evento che ha attirato decine e centinaia, voglio dire, migliaia di utilizzatori e appassionati del cioccolato, ma anche sulle piste abbiamo avuto dei momenti di assaggio e degustazione. È stato un inizio di stagione particolarmente interessante anche perché con la cioccolata abbiamo abbinato tutta una serie di attività, quindi escursione, il ciocco alba, abbiamo aperto gli impianti alle sei la mattina per salire in cima alla Paganella, oltre al panorama pazzesco, si vede spettacolare, meraviglioso, della cima Paganella verso le Dolomiti Brenta e Tulto Trentino, anche gli assaggi di cioccolata che è un alimento, un cibo trasversale, intergenerazionale e ha catalizzato sia bambini, adulti e anche i nonni che venivano e portavano i bambini. Io pensavo che si mangiasse tanta cioccolata, invece il direttore dell'Eurocioccolata ha detto che l'Italia è in coda al consumo di cioccolato in Europa, no? Sì, ha fatto... Mi sembra due chili a testa, pro capite, quando invece in Belgio, in Svizzera si passa cinque o sei chili. Cinque o sei chili, ma... A testa che è tanta roba. A testa. Però, diciamo, aveva dato anche uno spunto di carattere positivo, dove la cioccolata sta riprendendo in maniera forte anche in Italia. È un alimento apprezzato non solo nel dolciario, ma anche in tanti altri alimenti. Ci sono stati momenti in particolare nei rifugi e nei ristoranti di Andalo e delle altre località dell'Alto Piano, dove sono stati fatti dei menu tipicamente con tutti gli ingredienti del cioccolato. Il week-end prima di Natale. Noi eravamo presenti e abbiamo fatto anche uno speciale televisivo sull'evento. Allora, dalla Paganella, un'altra... Il Bondone e Trento, siete proprio al centro del Trentino. Beh, sì, come dicevo prima, è sicuramente raggiungibile comodamente il Monte Bondone. E sono davvero poi tanti comunque gli eventi, gli appuntamenti durante tutta la stagione invernale e possono essere vissuti sia dai cittadini, quindi dalle abitanti di Trento, sia ovviamente anche da chi abita nel nord Italia. E anche quest'anno c'è il doppio appuntamento con lo sci in notturna, il martedì e il giovedì, dalle 20 alle 22.30. Quindi è un'occasione, insomma, di poter sciare sotto le stelle vedendo le luci di Trento. Con la luna pia, c'era la luna rossa anche da voi due settimane fa? C'è stata, sì, si è vista. No, ma in effetti, siccome non bastano le otto ore di sci, chi si inventa lo sci in notturna, chi si inventa lo sci all'alba? C'è chi magari non può perché appunto lavora e quindi sceglie di andare la sera e di divertirsi perché c'è anche tutto la preschi, ovviamente, quindi musica, animazione sulle piste. Anche da voi ci fa tanto sci in notturna, Flavio, giusto? Anche da noi si fa sci in notturna, sia dalla parte, diciamo, dell'Alpe Cermi, sia dalla parte di Oberegen, che è la nostra stazione in Alto Adige, dove, diciamo, oltre lo sci in notturna si fa la slitta in notturna, che ha preso molto campo, insomma. E poi avete fatto, la grande novità di questo inverno, a parte le piste, avete fatto delle belle offerte gastronomiche, nel senso, avete fatto dei rifugi nuovi, a prego dell'Algea di far mandare le immagini. Esattamente, abbiamo parlato di acqua, abbiamo parlato di cioccolata, ma ai nostri ospiti abbiamo molto da offrire. Vogliono. Poi, diciamo, nel nostro comprensorio la sfida è stata lanciata tre anni fa con il rifugio Oberholz, che oltre alla proposta gastronomica, ha offerto una fantastica proposta architettonica. E direi che quest'anno l'architettura si è espressa, diciamo, in una maniera molto significativa sia all'Alpelusia, all'arrivo dei due cronchi di Gabinovia. Qui vediamo, appunto, lo scelare 44 all'Alpelusia, con il suo spettacolo panorama sulle palle di San Martino e sul parco di Paneveggio, ma anche all'Alpe Cermis, diciamo, in quota, 2.200 metri, architettura e gastronomia hanno trovato un punto di incontro esremamente significativo. Certamente, ai nostri ospiti, che ricordo, sono internazionali, noi abbiamo oltre il 60% di clienti da straniere, amano sciare, amano star bene sulle nostre piste, in completa sicurezza, però a una certa ora amano sedersi su una sedia sotto una tavola. Ecco, la tavola si imbandisce, diciamo, c'è una proposta gastronomica che incontra, il posto è carino, diciamo, lo spettacolo fuori va dalla Gorai all'Atemar, e quindi siamo nel pieno delle Dolomiti. E diciamo, le proposte gastronomiche accontentano un po' tutte le richieste e tutte le tipologie, naturalmente, di clientela, perché l'italiano ha determinate esigenze, il cliente, diciamo, tedesco ne ha altre, il cliente della Repubblica Ceca ne ha altre ancora, e quindi anche i ristoranti si fanno un po' a gara per specializzarsi e per offrire, insomma... Ma questi turisti vogliono mangiare le cose che vogliono loro o vogliono una roba italiana, direi? Diciamo che lo stile italiano va bene, lo stile poi crentino, la cucina crentina va altrettanto bene, però c'è chi si è specializzato sulla pizza, c'è chi si è specializzato sui primi, c'è chi si è specializzato proprio nelle pietanze più richieste dai nostri ospiti. E c'è una gara, diciamo, come c'è una gara fra le piste e fra le società di impianti per far più passaggi, insomma, perché il cliente si trovi meglio nella propria stazione, anche i ristoranti, diciamo, condizionano un po' la scelta dei nostri ospiti, perché tante volte il ristorante fa da richiamo alla giornata di sì. Cioè, diciamo, non va a sciare in una pista bella, va a sciare perché si mangia bene. Anche quello, sì, c'è anche quello. E anche questo, chiaramente, alza la qualità, perché più competizione c'è, noi l'abbiamo visto, insomma, nel nostro sistema Dolomiti e Superschi, più competizione fra le varie società c'è, più migliora il cliente, più migliora il servizio, naturalmente a favore dei nostri ospiti, insomma. Ma che trovano diverse opportunità, tante opportunità, direi. Anche da voi in Alpecimbra, anche voi come rifugi siete, Baita Tonda, Stella d'Italia, e poi? Ma allora, diciamo che la tradizione culinaria è un nostro tratto identitario. Il nostro nome è Alpecimbra, questa tradizione cimbra, sia nella preparazione dei prodotti che delle ricette, è un tratto, diciamo, comune che cerchiamo sempre di amplificare, sviluppare in quelle che sono le nostre proposte culinarie. Io sono sostenitore del fatto che la sosta per pranzo o per cena nella vacanza di Sissi è un momento molto importante, anzi, devo dire, forse è uno dei momenti più belli. La sosta, peraltro, in rifugio, fa parte proprio dell'identikit della sciata modello. Quindi anche noi lavoriamo molto su proposte culinarie, c'è chi preferisce un panino gourmet, c'è chi vuole invece un pranzo con servizio al tavolo, con prodotti trentini, oppure lo straniero che secondo me predilige l'Italian style. Spesso e volentieri noi in Trentino, per la nostra tradizione austriaca sburgica, abbiamo prodotti tirolesi come lo specchi, canederli, lo strudel, ma spesso e volentieri i nostri clienti che vengono da stati europei cercano in Italia una buona pasta asciutta, piuttosto che la pizza, piuttosto che altri prodotti Italian style, del quale, insomma, noi siamo molto fieri. E una parola la voglio dire soprattutto sulla selezione di vini, vini spumante, il Trento Doc, ma anche i nostri splendidi rossi, quindi diciamo un mondo, quello della gastronomia, che si lega con lo sci e col turismo invernale, secondo me creando un prodotto unico e incredibile. A prezzi giusti anche, perché in effetti... Ma io credo... Io credo che l'Italia faccia la migliore offerta, è una gastronomica, di prezzi di skip-ass, perché in altri paesi delle Alpi, tu vai in Svizzera, lo skip-ass costa fuori di testa, in Austria non mangi come mangi in Italia. Io credo che più che l'Italia parlerei di Trentino, nel senso che in Trentino, a partire dal paesaggio e dall'ambientazione dove sono i nostri impianti, le nostre destinazioni, al cibo, al rapporto della qualità-prezzo, credo che sia veramente un territorio unico ed eccellente da questo punto di vista. Grazie Michael, lo finisce qui la prima parte, cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, parleremo ancora di sport e turismo invernale nella seconda parte della seconda puntata di S4, il talk show di sportador.tv, a tra poco, dopo l'interruzione pubblicitaria. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile. Ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Pro Winter 2019, la fiera degli operatori degli sport invernali, il noleggio, la strumentazione per le piste da sci e tutto il mondo della neve. Pro Winter, alla fiera di Bolzano, dal 9 all'11 di aprile. A Folgaria, nel cuore dell'Alpe Cimbra in Trentino, il Rifugio Stella d'Italia e il Rifugio Baita Tonda vi aspettano di giorno sulle piste da sci e di notte con le cene con trasporto con Gatto delle Nevi e Motoslitta. www.rifugiobaitatonda.it Gas Beton, il materiale migliore per costruire i muri della tua casa. È un prodotto ecosostenibile e resistente che dura nel tempo. Con Gas Beton, la tua casa sarà calda in inverno e fresca in estate, senza cappotto termico. Ti garantirà notevoli risparmi in bolletta grazie ad una forte riduzione dei consumi. Gas Beton, la scelta intelligente per il tuo benessere. Adamello Schirai, domenica 7 aprile. In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta Val di Sole Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Vicina da non crederci Peio E in transformed via Ciao 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 Ciao